e buongiorno a tutti oggi vi parlo di un disco un po particolare per me che mi è anche molto utile per raccontare delle cose importanti nel libro mille dischi per un secolo di che disco si tratta di unplugged mtv unplugged dei nirvana questa è un'edizione una ristampa in vinile che cosa ci racconta questo disco qui beh innanzitutto è curioso perché ci dimostra una delle cose più importanti nel campo dell'arte dei suoni e cioè che probabilmente il parametro più importante tra quelli di cui parliamo nel libro cioè melodia armonia ritmo dinamica timbro espressività l'espressività la matrice dell'artista è probabilmente il parametro più importante cioè quello che ci fa veramente riconoscere un'artista perché quindi uso mtv unplugged dei nirvana come metafora per raccontare questa cosa perché noi siamo abituati al sound dei nirvana ruvido un muro di suono un'aggressività in qualche maniera a volte passiva no remissiva un po depressive che ci viene lanciata addosso un treno in corsa dai nirvana ed ecco che invece in mtv unplugged tutto viene eseguito in maniera pressoché acustica e che cosa accade che l'energia dei nirvana rimane intonsa ci viene consegnata con la stessa anzi addirittura potenziata quindi che cosa ci racconta tutto questo proprio che effettivamente la matrice dell'artista non risiede nel suo suono ma proprio in questa personalità in questo modo di raccontare le cose che diventa un mondo questo mondo qui è fortissimo è potentissimo ed esiste come sapete anche una video registrazione dell'evento e da quello si percepiscono molte altre cose ma già solo della registrazione ci accorgiamo proprio di come il suo suono dei nirvana che detto così è assurdo perché il suono dei nirvana come dicevamo è fatto di chitarre distorte di amplificazione mentre invece qui una dimensione pressoché acustica noi siamo in grado di percepire delle nuance che addirittura forse ci eravamo persi è un po come quando ascoltiamo jimmy hendrix che suona la chitarra acustica o che quando suona con la chitarra da solo in particolare modo mi piace molto ricordare che in questo in questo concerto oltre al repertorio di nirvana troviamo anche una straordinaria versione di what did you just did last night dal repertorio di lead belly e soprattutto un pezzo eseguito con i fratelli kirkwood dei meet puppets il concerto ebbe luogo il 18 novembre del 1993 ed è stato fissato sul disco e sinceramente credo che sia una delle più importanti opere sonore dell'ultimo decennio del secolo scorso vi ringrazio tantissimo vi ricordo di iscrivervi al canale youtube se vi fa piacere seguire le nostre cose e di seguirmi sui social ciao a tutti ci vediamo presto grazie